Ben trovati a questa edizione di TgGiorno, apertura dedicata purtroppo alla cronaca perché nella mattinata c'è stato un gravissimo incidente sul lavoro che è castato la vita a un operaio di 52 anni. L'uomo stava lavorando in un cantiere stradale per la realizzazione di una fognatura in via Dorini a Sant'Alessio e sarebbe, secondo quanto ricostruito sui primi momenti della dinamica, sarebbe caduto in uno scavo con la terra che poi lo avrebbe ricoperto. Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma vista la constatazione del decesso il suo intervento non è stato purtroppo più necessario. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La dinamica ovviamente di quanto è accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Spostiamoci a Marina di Carrara perché la nave della ONG Medici Senza Frontiere, GeoBarens, che è arrivata ieri con 249 migranti a bordo, è stata sanzionata con 20 giorni di fermo amministrativo. Sentiamo l'intervista realizzata alla responsabile dei soccorsi della ONG, Fulvia Conte. Ieri, 20 marzo 2024, la GeoBarens è stata sottoposta a fermo amministrativo per aver violato il decreto legge piante e dosi del 2023. È già la ventesima volta che una nave di una ONG viene sottoposta a fermo amministrativo per aver violato questo decreto. L'accusa è quella di aver impedito il soccorso della Guardia Costiera Libide che ha effettuato manovre che hanno messo in pericolo la vita delle persone durante un soccorso del 16 marzo. Quello stesso soccorso che avevamo già ampiamente denunciato, grazie tra l'altro ai video e alle riprese dell'aereo di Seabird e alle riprese dal ponte. Durante quel soccorso la GeoBarens stava soccorrendo 146 persone quando la Guardia Costiera Libica è intervenuta con un pattogliatore, tra l'altro regalato dall'Italia un anno fa, bloccando le operazioni di soccorso, mettendo in pericolo la vita delle persone sul barchino e minacciando tra l'altro il personale di Medici Senza Frontiere. La Guardia Costiera Libica, finanziata dall'Italia e finanziata dall'Unione Europea, è quella a mettere in pericolo la vita delle persone in mare e tra l'altro a cercare costantemente di fermare le operazioni di ricerca e soccorso della società civile. L'accanimento che si sta dando nei confronti dell'ONG è un accanimento finanziato ed è un accanimento voluto per cercare di fermare chi, al contrario degli stati costieri, cerca di garantire la vita delle persone in mare, cerca di garantire missioni di ricerca e soccorso, tra l'altro testimoniando la costante e deliberata violazione del diritto internazionale e di quegli stessi trattati che anche l'Italia ha firmato. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento. Ieri sera c'è stato per le strade di Viareggio il colteo degli Ultras in occasione dei 105 anni della fondazione del Viareggio Calcio. Mercoledì sera la Viareggio Ultras in occasione del 105esimo anniversario della nascita del Viareggio Calcio ha sfilato per le strade del centro con partenza da Piazzare del Comune alle 21 percorrendo Via Fratti, zona pedonale, raggiungendo Piazza Santa Caterina dove fu disputata la prima partita ufficiale del Viareggio Calcio e dove in occasione dei 100 anni delle zebe l'associazione culturale Orgoglio Bianconelo ha posto una targa commemorativa. Per quest'altro importante traguardo gli Ultras che sono sempre al seguito della squadra sia in casa che in trasferta sono stati accompagnati anche da alcuni supporters del Pisa, loro gemellati, che hanno sfilato con loro, con la bandiere, con la sciarpa dei 105 anni, con cori fumogeni e perfino con i fuochi d'artificio. Uno striscione con suscritto da 105 anni, passione e fedeltà auguri da chi mai ti tradirà è stato esposto accompagnato poi con cori e canti. È stato un momento per dimostrare ancora una volta quanto gli Ultras attengono alla squadra, attualmente prima in classifica nel campionato di promozione, con la speranza che quanto prima un'altra festa possa essere organizzata per la promozione in eccellenza. Adesso andiamo nella Piana di Lucca perché ieri, dopo numerose ore di ricerca, è stata rinvenuta, purtroppo senza vita, la donna di 60 anni che era scomparsa. Giornata di ricerche conclusesi purtroppo nel peggiore dei modi, tra Bientina e Dorentano, al confine con la provincia di Lucca. Il corpo senza vita di una donna di 60 anni di Alto Pascio, scomparsa senza lasciare traccia, è stato ritrovato nelle acque del canale emissario del Padule del Bientina, nella zona della strada provinciale bientinese. Secondo quanto ricostruito, la donna, che viveva insieme alla madre di 90 anni, aveva subito uno sfratto. Le due, per alcuni giorni, avevano girovagato, dormendo prima in un bed and breakfast della zona e poi in auto. Alla fine si erano presentate ai servizi sociali di Alto Pascio chiedendo aiuto. Martedì il comune era riuscito a trovare una sistemazione in un albergo, ma proprio quel giorno la sessantenne si è allontanata dalla vettura parcheggiata nella zona della Bientinese senza fare più ritorno. In qualche modo la madre è riuscita a dare l'allarme e sono partite le ricerche. Il centro operativo e di coordinamento era stato allestito al campo sportivo di Orentano, da dove, decollato per le ricerche dall'alto, un elicottero arrivato appositamente da Arezzo. Hanno partecipato alle perlustrazioni i vigili del fuoco, i volontari e la protezione civile, oltre che con le squadre di terra, anche con le unità cinofile e con i droni. Coinvolti anche i nuclei sommozzatori di Livorno e Firenze, che hanno scandagliato il canale imperiale di Bientina. Sul posto anche i carabinieri, che al momento escludono il coinvolgimento di altre persone nella morte della donna. Aveva sparato contro il contatore Enel di un locale, dopo essere stato allontanato a causa di ubriachezza molesta. I carabinieri di Massarosa lo hanno rintracciato e arrestato. I carabinieri hanno tratto in arresto il responsabile del danneggiamento, con un'arma da fuoco, del quadro elettrico del locale, il borgo antica Locanda a Montramito. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto, un 54enne di Viareggio, avrebbe avuto un alterco con il proprietario, che lo aveva allontanato dal ristorante, in quanto ad un certo punto della serata aveva iniziato ad avere atteggiamenti moleste a causa dell'alcol. Per tutta risposta, il 54enne, nell'allontanarsi, avrebbe sparato con un ordigno artigianale contro la centranina elettrica del locale, causando un blackout. I militari intervenuti hanno rinvenuto la borra di plastica del contatore con il proiettile ancora conficcato dentro. Le indagini volte ad individuare l'autore, grazie anche alla testimonianza dei presenti e ai sopralluoghi nell'area effettuati con l'osilio dei militari della stazione di Massarosa, hanno infine portato all'individuazione dell'uomo. Giunti a casa del soggetto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola artigianale e due cartucce calibro 36. L'uomo è stato quindi immediatamente arrestato per detenzione di arma clandestina, minaccia e danneggiamento. Torniamo a Lucca, occupiamoci della GEL perché secondo quanto riferito nella consulenza dell'ex superconsulente di Lucca Holding, Francesco Palotronca, sarebbe impossibile la proroga di GEL come gestore dell'acqua. Il dato normativo non lascia spazio a una possibile proroga dell'affidamento del servizio idrico a GEL nel territorio del comune di Lucca. Lo scrive nero su bianco Francesco Paolo Tronca nel suo ruolo di consulente di Lucca Holding. Il documento, corredato da una serie di sentenze a sostegno della tesi giuridica conclusiva, è datato 7 marzo 2024. Si tratta evidentemente di uno degli ultimi atti dell'ex prefetto che, come noto, ha lasciato l'incarico nella SPA. Il parere di Tronca, emerso grazie a un accesso agli atti del consigliere Daniele Bianucci, sembrerebbe quindi porre fine alle speranze più volte manifestate dal sindaco Mario Pardini di prorogare il più possibile l'autonomia lucchese in materia di gestione dell'acqua. Anzi, lo stesso consulente invita l'amministrazione a istituire un tavolo tecnico con GEL, ATO, GAIA e la stessa Lucca Holding per definire il futuro del servizio idrico. In attesa di sapere se questo invito sarà accolto, l'amministrazione intanto, con la determina 509 del 13 marzo scorso, con un investimento di 2.000 euro, affidato un'altra consulenza. Si tratta più precisamente di un incarico a compilare un'analisi iniziale sulla fattibilità della gestione autonoma del servizio idrico, aggiudicato allo studio associato Cani Paroli, specializzato in geologia e ambiente. Andiamo a Pietrasanta, perché sabato e domenica sarà lo sport protagonista in Sant'Agostina a Roma, infatti è stata presentata la seconda edizione del meeting Sports City. Nella sede dell'Associazione Anci di Roma si è svolta la conferenza stampa di presentazione del secondo Sports City Meeting Gli stati generali sul benessere e la qualità della vita in programma a Pietrasanta, sabato 23 e domenica 24 negli spazi del complesso monumentale di Sant'Agostino. Il meeting, condotto dal direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, prevede l'apertura dei lavori con i saluti istituzionali, tra gli altri, del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi. A seguire per l'intera giornata si alterneranno sul palco rappresentanti di federazioni ed enti di promozione sportiva, amministratori di diverse regioni italiane, esperti di diritto dello sport, giornalisti, dirigenti di grande aziende e referenti dell'osservatorio permanente sullo sport attivato dalla Fondazione Sports City che monitora diversi parametri come la spesa delle famiglie per bene e servizi sportivi, il tempo che viene dedicato alle attività all'aperto, lo sport nelle città e il rapporto tra disciplina sportiva, salute, scuola, tecnologia e ambiente. Durante la giornata sarà presentato a spasso per Pietrasanta e rivisitazione di un itinerario turistico lungo il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea misurato in passi con segnali contapassi posizionati ad ogni scultura. Domenica 24, invece, spazio a diversi workshop in programma per l'innovativo format Il Bar dello Sport. Incontri e panel saranno trasmessi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. Chiudiamo con lo spettacolo, notizia appena arrivata in redazione, la D'Alessandro E' Galli ha annunciato che Lenny Kravitz si esibirà sul palco di Bussola domani all'Ido di Camaiore il prossimo 13 agosto nell'ambito del suo Blue Electric Let Tour 2024. L'inizio della vendita dei biglietti è previsto per domani, venerdì 22 marzo, alle 10. Bene, con questo si chiude la prima parte di TG Giorno, tra poco la pagina sportiva.